Dragon Ball Z Kakarot uscirà il 17 gennaio, ma già qualche giorno prima vedrete l'intera serie del gioco qui sul mio canale per scoprire insieme tutta la storia. Ci saranno anche tante guide segreti, mettete la sveglia e preparatevi a una grande avventura. E ci siamo, il primissimo video di Dragon Ball Legends del 2020. Sto registrando da un nuovo cellulare, quindi credo che la qualità ora sia incredibile e superiore di gran lunga. Ed ora ragazzi, andremo a fare diverse cosucce. Andiamo sia nelle summon, perché devo recuperare e aprire varie cose, e poi andiamo in PvP. Lì mi devo ancora allenare un pochettino, in queste feste sono riuscito a giocarci poco, però ci siamo. Abbiamo come primissima cosa New Year Rising 2020. Mi vado a prendere questa primissima sparking, ma prima vi ricordo di lasciare un like. Lasciatelo adesso, fatevi sentire al massimo. Ricordate di iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche, perché dal 17 gennaio, e anche qualche giorno prima, arriverà sul mio canale la serie di Dragon Ball Z Kakarot. Ma questo ormai, credo che tutti lo sappiate di già. Sarà una grandissima serie, e ci sarà ovviamente da divertirsi. Allora, come avete visto, ci siamo bruciati il primo ticket di oggi, ma credo di avere a disposizione qualche altro ticket. Voglio vedere tutta l'animazione, ed è quella con Vegeta Super Saiyan. Va bene, ci può stare. Vediamo un po' che succede. A me piace sempre rivederle queste, sempre rivederle, perché sono molto particolari, molto belline. E come sparking abbiamo questo Trunks. Che vi dico, non è male, non è male. Poteva andarci ancora meglio, è però un Trunks che forse mi sale a 4 stelle, ok? Bah, tendenzialmente, credo che sia un buon personaggio. Poi fatemi sapere voi cosa ne pensate, già portato a 5.000, tutti i pannelli sbloccati. Poi abbiamo ThankYou2019, Hello2020. Anche qui una sparking gratuita. E vi dico una cosa, chi mi segue su Instagram lo sa, quella era una summon gratuita, forse ho detto sparking, confusissimo Joseph Gamer, ma non importa. Tra l'altro qua la sparking c'è. Come vi dicevo, su Instagram seguitemi lì, vi lascio il link in descrizione per seguirmi su Instagram, perché nelle stories ogni tanto vi faccio vedere qualche multisummon. E proprio qualche giorno fa abbiamo trovato 4 sparking di fila. Ed eccola qui, abbiamo Boo. Praticamente abbiamo Booan. Come primissimo personaggio, babam, doppia sparking! Waiu, vabbè, Android 16. Però come vedete, il 2020, ragazzi, è iniziato alla grandissima. Considerando, ecco, quella storia di cui vi parlavo prima per quanto riguarda Instagram, dove ho trovato 4 sparking di fila in una sola consecutive summon. Quindi veramente al top. Anche qua oggi, con questa summon, siamo riusciti a trovarne i due. Va addirittura a 6 stelle? Veramente non male. Molti personaggi che ottengono il limit break, per cui ci sta. Secondo me ci sta la grande. Vediamo un attimino 6 stelle e di conseguenza, ecco, si ottiene l'ability upgrade. Però, aspetta, 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 quasi me ne dimenticavo. Qua ci andiamo a prendere altre due sparking, e attenzione. Quindi, bam! Vediamo subito. Io non ho preferenze particolari. È chiaro, vorrei personaggi più forti presenti direttamente sul banner, però credo di averli già tutti, più o meno. Quindi sarà da vedere quale ci uscirà fuori. Sono curioso di vedere la trasformazione di Goku, eccola qua, in Super Saiyan nero sicurissimo, e Freeza viene spazzato via. Ottimo così, vai così. Vediamo un po' chi sarà la nostra sparking. E otteniamo questo Freezer. In sincerità, risparmiabilissimo. Mi va addirittura ad una stella rossa, però è un personaggio, ragazzi, che io non sto proprio più utilizzando in nessun modo, nemmeno nei team adatti, perché poi, ovviamente, sono usciti tanti altri personaggi migliori. Vediamo un po'. Questo sarà un fake out, ragazzi. Probabile, perché c'erano solo tre... tre Space Pod, mi pare strano, eh. Quindi Freezer lanciato via di nuovo. Oh, bellissima, ragazzi! Tieni premuto, ed ora release! Sapete che forse a me non è mai uscita la sfrega in Kidama? Non me lo ricordo, forse una volta, bah. Però molto bello, ogni volta che la vedo... Boom! Pai Kwan. Se devo essere sincero, ragazzi, proprio queste due sparking che abbiamo appena trovato mi lasciano parecchio perplesso, veramente tanto. Però, vabbè, ragazzi, abbiamo già ottenuto un bel po' di cosucce interessanti, fino ad ora, non solo in questo video, ma anche in altri video, per cui, tra virgolette, ci possiamo pure accontentare. Anche se... Un'altra sparking qua ce l'abbiamo, ma vai così! Tanto ormai, ragazzi, ce l'abbiamo tutte... tutte queste possibilità, schippiamola. Quindi... Mi aspettavo subito come prima la sparking ed è... Questo Goku qua. In realtà lo sto utilizzando, mi sa per nulla. Forse non lo sto proprio utilizzando, però... È un personaggio che in qualche occasione in passato è stato utile, però ora come ora non saprei. E abbiamo un'altra sparking! Abbiamo Lord Slug. Bah, in un team regen, forse è ancora utilizzato, non lo so, perché io non sto più utilizzando team regen. Un'altra sparking, vabbè, ragazzi, Joseph Gamer. Questo Bardak non è male. Forse in un team Saiyan, Super Saiyan viene utilizzato, non ricordo. Però al momento non ce l'ho in nessun team. Però... Va bene, va bene. Tre sparking, ragazzi. Direi al top. Come vedete, la fortuna arriva. Non sono personaggi incredibili, questo no. Però, diciamo che il gioco ci fa capire subito l'andazzo del 2020. Peccato che mi mancano sti due ticket, mannaggia. Però, li faremo magari successivamente. Ci stiamo prendendo pure un'altra sparking garantita, che non ricordo... Non ricordavo nemmeno di quale batch fosse. A tre stelle. Bah, per... Devo vedere se è un personaggio valido per il team GT. Io al momento... C'ho un team GT, ma non sto minimamente utilizzando il generale Lilde. Rildo, chiamatelo come volete. Il mio team, infatti, è il seguente. Sicuramente ci sarà da migliorare un po'. Da un po' di giorni non gioco nemmeno in PvP, quindi sono molto, molto arrugginito, ma... Chi se ne frega, ragazzi. Voi sapete qual è il mio pensiero, la mia opinione. Si vince, si perde. Se si vince è bene così. Se si perde, ce ne faremo una ragione. Oh, e ci siamo. Abbiamo un team un po' particolare. Non è un team GT al 100%. In realtà, è abbastanza facile prevedere tutti i personaggi, perché ne ha tre rossi, uno blu e due viola. Quindi, non dovrebbe essere particolarmente difficile predictare il tutto. E infine, ho deciso di portare proprio questi tre. Vediamo se ho fatto bene oppure no. Io direi di partire da subito. Cambiamo il personaggio. Ottimo, così. Ce la stiamo gestendo abbastanza bene. Anche se, ecco. Dovevo prevedere una cosa succede di questo tipo. Subiamo tantissimo. Non immaginavo diversamente. Ho le mani fredde, ragazzi. Ce l'avete presente? Quando avete le mani molto fredde. E di conseguenza... Non so, fate tipo movimenti più lenti. Ma subito, Fra. Oh, e dammi il tempo di ragionarci su. Cioè, il tempo di iniziare lo scontro. È stato molto veloce. Subito. No, mannaggia. Inizialmente volevo partire con i blast. Poi ho fatto retromarcia. Però ce la siamo gestita, eh. Ce la siamo gestita molto bene. Gestita no, perché alla fine potevamo fare ben poco. Però tendenzialmente... Questo era quello che potevamo fare per il momento per difenderci. Andiamoci così. Colpiscilo con questo cannone Galic. Ottimo. Vieni, vieni. No, ma che è? Non mi ha fatto il Rising Rush, Fra. Va bene, va bene. Subiamola. Vabbè, sono finito tantissimo. E invece no. È nostro. E invece no. Vabbè. Vegeta, è stato un piacere. Ti ringrazio per il tuo supporto. Anzi no, ancora vivo. E invece no. Era una bottina di lag, una roba simile. Va bene. Ce la facciamo andare bene così. Lo becchiamo, no? Perché non dovrebbe avere il tempo. Perfetto. Oh, ma che è che si impalla? Non lo so, va bene. Io direi di provare in questo modo. Questo Goku forse riusciamo a buttarlo giù. Era necessario buttarlo giù, perché come sapete, ogni volta che si cambia un Goku o un Vegeta, si ottiene quel 30 di chi in più. Oh, ma che sta succedendo qua? Si è bloccato tutto. Connexion unstable, però si riparte. Ho fatto bene a non staccare, altrimenti sarebbe andata malissimo. Riusciamo a portare a termine direttamente il Rising Rush. Ottimo. E quindi due personaggi contro due. Si ritorna, diciamo, in questa posizione qui. Attenzione che lui a breve forse cambia il personaggio. Errore da parte mia, però lo subiamo abbastanza bene. Va bene così. Insisti ora, eh? Ottimo. Ancora colpiscilo. E ci ha avuto tutto il tempo di fare questa cosa. Ho sbagliato tantissimo qua, però ce la facciamo andare bene comunque, no? Ci siamo. Colpiscilo e ce la facciamo, va bene. E ora qua mi sa che il piccolo Goku ci saluta. Potrebbe salutarci veramente da un momento all'altro. E invece resiste. Guarda che Goku incredibile. E ho fatto un errore. Dovevo cambiare personaggio. Va bene, ce la gestiamo adesso qua. Sperando di farcela, eh. Credo di sì, però, eh. Come vedete, abbiamo iniziato veramente benino. Ce la stiamo gestendo. Io qua vado in questo modo. Vado così e lo distruggo. Avevo previsto una roba simile. E ora qua, ragazzi, dobbiamo stare veramente attenti. Spero lui non abbia roba come Rising Rush o qualcosa di simile. Altrimenti sono finito. Poi è chiaro, eh. Ve lo dico ora. Avrei dovuto dirvelo prima. Tanti trick come avvicinarsi prima dello scontro e così via. Come avete visto, non sono stati fatti in questo video, ma non lo faccio nemmeno normalmente. Mi manca un po' di praticità proprio nel PvP. Quelle esperienze in più. Però, ragazzi, è un videogioco per cellulare, eh. Non è nulla che non si possa imparare a fare. Soprattutto nulla che sia necessario nella vita. Però, va bene così. Vittoria portata a casa. Ma sapete che vi dico? Andiamoci ancora, va. Attenzione, attenzione. Un team, ragazzi, distruttivo. Questo mi spacca in maniera incredibile. Guardate l'ability bonus. E guardate i personaggi. Sarà piuttosto difficile gestirsela qua. Ve lo dico in tutta sincerità, ragazzi. Credo, però, che subiremo parecchio. Vediamo un po'. Primo personaggio, predictato subito. Gli altri due, ragazzi, non li abbiamo predictati. Per niente, ma proprio zero. Va bene così. Ottimo. Vai, vai, insisti, Goku. Ancora. Ottimo così. Vediamo se riesco a cambiare un attimo il personaggio. No, non ci voleva. Porca miseriaccia, peccato. Va bene, stiamo subendo un botto. Ci può stare. Andiamoci a prendere un'altra sfaretta del drago. Ma non ci voglio credere. Eh, vabbè. Brutta storia qua. Cambiamo personaggio subito. C'abbiamo il Rising Rush. Dobbiamo giocarcelo per bene, eh. Adesso lui... Pensavo si facesse il dodge. Invece no. Adesso se l'è fatto. Ottimo così. Insisti. Mannaggia. No, dovevo cambiare l'altro. Va bene che ci sono, eh. Come vedete. E andiamoci di Rising Rush. Cambia personaggio. Va bene. Ci provo in questo modo. Come vedete, durante queste battaglie cerco di parlare ma... Per me non è... Non è facile perché la concentrazione deve stare ad altissimi livelli. Nei limiti del possibile, eh. Non è che dobbiamo costruire un palazzo, però. Ok. Buttato fuori lui. Azze. Non mi hai preso, frati. Sei sprecato il Rising Rush. Mi dispiace un botto. Eppure ero sicuro, ragazzi, che ci distruggesse. Dimmi che ce la faccio in tempo. Acchiappato. Ha cambiato però personaggio. L'ha cambiato il personaggio. Sapete che vi dico, ragazzi. Nonostante qualche errore... E ce ne sono stati. Secondo me ce la stiamo cavando abbastanza bene. Poi, è chiaro, non sono esente da errori, però... Un po' alla volta ce la stiamo gestendo, eh. Subiamo un bel po'. Tanto lui subisce abbastanza bene. Dovrebbe comunque riuscire a resistere, secondo me, baby. Va bene, va bene. Subisci, subisci. Ci può stare. Ottimo. Va benissimo così. Qui si scansa. Mi sembra giusto. Addirittura fa queste cose. Andiamo lì a bustare un attimino tutti. E quindi concludiamo come si deve. Quindi, lui distrutto. E voglio provarci in questo modo, va. Direttamente con Vegeta che era pure svantaggiato. Boom. Conclusione, a mio parere, ottima. Bella vittoria, nonostante ragazzi fossi sicuro di perderla. In questo video abbiamo visto consecutive summon con un bel po' di sparking. Abbiamo visto due sfide consecutive, con due vittorie consecutive, veramente al top. Poi è chiaro, si può sempre migliorare, però per ora ci accontentiamo. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi ora al mio canale. Cliccando qua al centro per guardare altri video. Cliccate qui sulle miniature e molto presto inizierà la serie di Dragon Ball Z Kakarot. Vi voglio carichi. Quindi alla prossima. Ciao!